Non ci credete, ma è vero, ci sono qui i Dorado Ranch, va bene? Ciao! Allora, sono lì che stanno cercando di mettere qualcosa, cos'è questo? Un bracciadetto elettronico, lei ci controlla la polizia, la polizia ci controlla E lei lo sa, e lei lo sa, e come mai al BENT Festival? Beh, il BENT comunque è una festa bellissima, ci troviamo tutti gli amici qua dall'Austria, dalla Germania, è troppo bello Non è il primo anno che venite qui? No, assolutamente, siamo affezionati Quindi andrete dentro a ballare, la prima cosa che si fa quando siete del BENT Festival è Si mette a ballare, qui c'è della musica bellissima, o ci si siede al bancone e si prende una birra? Ballare, ballare, ballare La birra, la birra E invece lui dice, io mi stavo dicendo, se no io birra No, 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 qua si viene per ballare, poi ci sta anche la birra, poi ci sta anche la carne, tutto ci sta dopo Ma prima si balla Prima si balla, fino a stanotte fonda credo, no? Assolutamente si, erano le due che ci hanno mandato via Ah, perché voi andate e tornate Eh sì Non siete di quelli che hanno dormito qui stanotte con la denda o con la grandine, mi hanno detto? Eh, tanto ieri sì È stato devastante, poveracci quelli che l'hanno presa Tutto bene carichi? Tutto bene, benissimo Allora io saluto i nostri personaggi, c'è anche la Luisa che è scappata e scappata E' scappata a ballare Vi lascio andare a ballare Ciao Dorado, ci vediamo dopo Grazie, ciao 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 Ciao